Oggi vi mostrerò un tutorial su come realizzare questo trucco, tutto sui toni del rosa, mi sembra di essere l'Humbridge con tutto questo rosa E' un trucco smoky, però tutto rosa Appunto questo potrebbe essere un look adatto per San Valentino o questo genere di occasioni Comunque, avete visto che cos'è? Se vi interessa appunto continuate a vedere il video per vedere come l'ho realizzato Ciao! Iniziamo applicando un ombretto rosa shimmer, questo è della Deborah 24 Silk numero 06 Con un pennello piatto su tutta la palpebra mobile Utilizzo lo stesso colore anche nell'aria vicino al condotto lacrimale Vado poi a prendere una matita molto chiara, questo è un maticone di Essence della collezione Britti Quindi due highlighter pencil e vado a prendere la parte giallina Una parte rosa e una parte più giallina, prendo la giallina E la vado a buttare sotto il sopracciglio Adesso prendo un colore aranciato Io uso questo, questo è un arancio pesca In realtà questo sarebbe un blush della Essence, sempre la collezione Naughty Girl 01 Answers Away E ora vado ad applicare con un pennello d'assumatura un pennello morbidoso Sopra dove abbiamo applicato il rosa come colore di transizione Vado ad applicare un ombretto color cioccolato come questo Questa in realtà è da un duo della Essence 3D Eyeshadow Questo è lo 03 Irresistible Choco Cupcake Con un pennellino angolato da eyeliner lo vado ad applicare nella prima parte delle ciglia inferiori Facciamo su tutte Successivamente prendo il rosa champagne dallo stesso duo Con un pennellino piccolo da applicazione E lo vado a sovrapporre al rosa nell'angolo interno Per raggiungere un po' di scintillio Uso il marrone anche per delineare le mie sopracciglia Vado a prendere un viola acceso tendente al magenta Questo è Catleia di Nabla Con un pennello cicciotto E lo applico sopra la piega dell'occhio Non troppo intensamente Sfumo con il colore arancio pesca E sfumo a sua volta con il rosa champagne Prendo poi con un pennellino eyeliner Catleia E lo vado adottare nella prima parte sotto le ciglia inferiori Uso il colore cioccolato anche come eyeliner per dare un effetto un po' sfumato Vado ad applicare poi una matita Io la uso nera, potete usare anche marrone Nella rima interna inferiore Questa è della Essence Effect Eye Pencil Long Lasting 06 Robocop Una matita nera insomma Mascara Questo è anche The Big Lashes di Essence Questo è il trucco degli occhi completato Adesso andiamo a realizzare il trucco del viso Parto dal contouring E per realizzare il contouring Vado ad utilizzare il color cioccolato Che ho utilizzato appunto come Per definire l'occhio prima Con un pennellino da contouring E vado sotto gli zigomi Ai lati del naso Sotto E sotto il labbro inferiore Sfumate Come blush Io ho scelto Avrei potuto utilizzare anche il color arancio pesca Ma dato che tutti i colori di questo trucco Sono comunque sul tono del rosa e del viola Vado ad utilizzare lo stesso ombretto Leggermente shimmer Che ho usato sugli occhi E lo sfumo Come illuminante Utilizzo il rosa shimmer Con un pennello a ventaglio Come rossetto Vado ad utilizzare Un rosa malva Questa della Rhythm World È un matte Appunto Si chiama Move out of here Move Cioè Non move out of here Ma move Come malva Appunto Need you my glasses E la Picon Gloss Questa della Essence Effect Lip Gloss C05 Pink Galaxy E questo è il trucco completato Questo è il trucco completato E lo sfumo E lo fumo E lo sfumo con questo il tutorial è finito spero vi sia piaciuto che vi risulti utile ci vediamo al prossimo video ciao